Hanno preferito togliere i fiori che sarebbero stati travolti dal maltempo. Il comune di Pescara, insieme con la società ambiente che si occupa della pulizia della città, è intervenuto per la rimozione all'esterno del parco Baden Powell di via Raffaello a Pescara, dove domenica 23 giugno è stato ucciso Christopher Thomas Luciani. La sera dell'omicidio per il quale sono stati fermati due minorenni di Pescara sul luogo a terra e sul cancello in centinaia sono andati poi a deporre un ricordo, uno scritto, un mazzo di fiori per rendere omaggio a un ragazzo appena 17enne la cui morte ha scioccato la comunità di tutto il pescarese, non solo del centro di Rosciano nel quale Thomas viveva. Tenendo conto dell'allerta meteo, il comune adriatico ha lasciato solo i fiori attaccati al cancello del parco e tolto quelli adagiati a terra nei luoghi dell'omicidio dove Thomas è stato ucciso con 25 coltellate, tolti anche i tanti lumini e i biglietti che sarebbero stati rovinati dall'acqua in arrivo nel capoluogo adriatico, lasciati dai tanti pescaresi arrivati per dare un ultimo saluto al ragazzo e che hanno voluto lasciare una testimonianza pubblica al tanto dolore, molti dei quali hanno lasciato il giorno della veglia di preghiera avvenuta successivamente al tragico episodio. Sarà ora cura del comune di Pescara a conservare le testimonianze e i ricordi per una vicenda avvenuta in un parco cittadino vicinissimo alla stazione che adesso si chiama Baden Powell ma che in seguito potrebbe anche essere rinominato parco Christopher Thomas Luciani, un parco che l'amministrazione comunale ha chiuso nei giorni scorsi e che non è stato ancora riaperto. Una decisione, quella della chiusura presa per evitare anche il via vai di gente che in qualche caso si recava sul posto solo per curiosità scattando anche dei selfie poi pubblicati sui social e quindi anche un modo per preservare e proteggere la memoria del ragazzo. Intanto vanno avanti le indagini degli investigatori che stanno passando al setaccio i cellulari dei ragazzi arrestati dopo l'omicidio di Thomas e anche quelli del gruppetto di amici presenti nell'ultimo colloquio con la vittima prima del tragico epilogo avvenuto all'interno del parco. Dai dispositivi che certamente sono svolti dal consulente informatico della procura per i minorenni dell'Aquila potrebbero emergere informazioni utili rispetto al debito maturato dalla vittima e soprattutto rispetto a un eventuale appuntamento che Christopher Thomas aveva con gli altri ragazzi.